Carissimi, sto cercando di capire che cosa stia accadendo nella mia vita perché sono molti i fattori che la rendono, insomma, diciamo decisamente uno spunto continuo di riflessione, quantomeno un fattore continuo di spinta nei confronti della possibilità di crescere e di provare a evolversi, rafforzarsi oppure soccombere definitivamente. Beh, questa seconda possibilità cerco di tenerla, diciamo, molto distante da me. Chiaramente il fatto che si verifichino situazioni di difficoltà e di contrasto continuo oppure di delusioni una dietro l'altra rispetto alla vita che sto facendo e alle cose che sto provando a portare avanti non rende facile il cammino. Mi sono accorto però che, proprio parlando con un'amica pochi minuti fa, di quanto sia importante questo scambio di aiuto, di energia, di sostegno che si verifica e che normalmente mi capita di mettere in circolo, ma poi di fatto in un circolo non si capisce mai quale sia il punto di partenza, no, non c'è mai un primo punto. Per esempio quando scrivo qualcosa oppure registro un video come questo cercando di dare coraggio, forza, motivazione. Ecco, mi capita in quei momenti in cui non sono afflitto o così deluso e magari anche quindi in tono minore. Purtroppo o fortunatamente io ho la caratteristica di essere così piuttosto sensibile, probabilmente perché ho una certa inclinazione artistica e quindi questa sensibilità mi porta a buttarmi giù di fronte a situazioni sfavorevoli e a fare l'opposto quando invece qualcosa ricomincia un minimo a funzionare. A volte mi basta un niente per risalire, ma ci vuole qualche volta un minimo di contributo, eccetera. E quando scrivo queste, quando scrivo, quando registro qualcosa a proposito della quale ho riflettuto e che mi serve per tirarmi su e che voglio condividere per aiutare anche voi, aiutare anche le altre persone nel mio piccolissimo a trovare motivazioni per continuare a cercare, per continuare ad approfondire, per continuare a lottare contro le ingiustizie, per continuare a mantenersi coerenti, eccetera, ecco poi mi capita che quel tipo di energia che ho messo in circolo mi ritorni da telefonate come quella appena ricevuta da un'amica o da aiuti magari anche concreti che magari ricevo da altri amici, altre persone e via di seguito. Quindi riflettevo su questo punto, è come se fosse una specie di grande banca dell'energia, anche se il termine già di per sé mi dà fastidio, perché è tutto un depositare per poi ricevere in cambio con gli interessi e questo è un aspetto interessante, quello degli interessi, che va ben lontano, che è molto distante rispetto a quel tipo di interessi invece di cui nei libri come quelli di cui, nei quali mi occupo di banchieri e via di seguito si parla, cioè interessi invece biecamente legati al profitto materiale. Qui si tratta invece di farci coraggio e in qualche modo sento forte questo dovere, anche quando la mia vita, come ormai in un periodo che continuiamo a dire è un brutto periodo, ma è un periodo che non finisce più, ecco come quando la mia vita è piuttosto complicata. Ecco, nonostante questo si tratta comunque di una forma di sostegno reciproco e di incoraggiamento che di materiale non ha assolutamente nulla, ma che comunque poi ci aiuta anche a affrontare gli aspetti materiali della nostra esistenza. Riflettevo quindi e cercavo e ho pensato di mettere a disposizione anche questa riflessione su un aspetto importantissimo. In questi ultimi video ho insistito moltissimo sulla questione della purezza. Ecco, la purezza è intesa proprio come un modo di pensare e poi di agire che siano autentici. La purezza è questa, quando parliamo dell'acqua pura intendiamo un'acqua incontaminata. Ecco, è un'esortazione continua la mia, nei miei stessi confronti, nei confronti degli altri, ad essere incontaminati e dunque questo significa ad essere se stessi fino in fondo e non rinunciare alla propria natura, alle proprie caratteristiche, alle proprie peculiarità. Mi distrugge la consapevolezza di avere vicino, intorno, persone, questo intorno a volte è un po' particolare perché spesso si tratta di una vicinanza virtuale, persone con cui hai a che fare quotidianamente magari, con cui scambi riflessioni, pensieri, battute, tutto quello che volete, ma sempre in un'ottica diciamo digitale, telematica, non vedendole direttamente, materialmente, cosa che a volte ha anche dei risvolti piuttosto negativi come quando, come forse ho alluso recentemente, ti capita che amici o affetti particolarmente intensi e che credevi sinceri si interrompano di punto in bianco senza una motivazione precisa, no? Dandoti quasi l'idea di essere stato utilizzato, di essere stato sfruttato. Ecco, questo aspetto dell'essere utilizzato è da collegare a quello della purezza, no? Ecco, fa tristezza, dicevo, sapere che ci sono tante persone anche in questo, diciamo, in questo contesto di resistenza e di scontro nei confronti di una vita falsa e inautentica come quella a cui siamo sempre più chiamati ogni giorno, giorno dopo giorno, anche essi poi di fatto, nonostante si siano schierati dalla parte della purezza, vivano definendosi direttamente loro degli schiavi, vivano tutto il giorno lavorando per chi li sfrutta e ruba loro la felicità, la possibilità di essere puri, cioè di poter godere pienamente della propria, della propria essenza, del proprio talento, delle proprie inclinazioni particolarissime. Questo è un furto terribile ed è anche un tradimento terribile che queste persone perpetrano nei confronti di loro stesse. Questo aspetto è assolutamente da scavalcare, da distruggere, da interrompere. Non si può vivere una vita che non sia felice, così come non si può vivere una vita che non sia costantemente, ogni istante, caratterizzata dall'amore. Io ho questo tipo di strana deformazione, che non certo definirei professionale, ma naturale, essenziale. Non riesco a vivere una sola cosa nella mia vita, sia nelle azioni che nei pensieri, che nel rapporto con gli altri, ma anche con le cose, che non sia caratterizzata dall'amore e dalla passione. Sono un fuoco vivente, un fuoco che vaga, a destra e manca, un fuoco errante. E questo fuoco deve essere sempre acceso quando dico anche solo una minima parola, quando pronuncio una frase e ho il sospetto che questa frase non sia stata pronunciata per amore, ma anche soltanto un minimo per interesse, mi sento subito in colpa, perché è l'amore che deve portare avanti la mia vita ed è l'amore che deve soffiare sulla nostra vela, sempre e comunque è l'amore che ci rende puri. E allora penso alle persone che utilizzano altre persone per i loro interessi, per amplificare i propri, i loro guadagni, ma anche soltanto per ottenere dei risultati provvisori, ma da poter sventolare, da poter poi vantare con gli altri. Non sapete quante volte mi capita, ed il bello è che io non sono certo chissà quanto famoso, ma quante volte mi capita di avere a che fare con persone che poi mi rendo conto che mi hanno avvicinato e hanno intrapreso con me un cammino, breve o addirittura lungo che sia, soltanto probabilmente perché potevano poi andare in giro a dire io l'ho frequentato, so questo, so questo, lo conosco, eccetera. È una cosa bruttissima perché ti senti usato e io in questi giorni, soprattutto oggi, ma anche tante altre volte mi sono sentito e mi sento assolutamente usato, molte volte da molte persone. Bene, questa non è purezza, questo è utilizzare le altre persone e utilizzare se stessi, perché di fatto tutte le volte che noi ci impegniamo in un tradimento, comunque in uno sfruttamento, in una forma di sfruttamento nei confronti degli altri, di fatto stiamo anche sfruttando noi stessi, cioè ci stiamo svendendo e stiamo rinunciando alla nostra autenticità proprio nel momento stesso in cui ci troviamo a mentire e quindi a, diciamo così, sfruttare l'autenticità degli altri. Come non ricordare, come non farsi venire in mente una delle tre famose formulazioni della legge morale dell'imperativo categorico così come viene appunto messa appunto da Immanuel Kant. Proprio questo aspetto, questa legge che è dentro di noi in quanto uomini, questa caratteristica che rende l'uomo uomo e che è innata a livello formale, non materiale ma formale dentro ogni individuo umano, che ci chiede e che ci prescrive di trattare gli altri, incluso noi stessi, cioè trattare l'uomo incluso noi stessi, quindi sia noi che gli altri, mai soltanto come mezzo e sempre come fine. Questo è un aspetto importantissimo. Cosa vuol dire mai soltanto come mezzo? Beh, è evidente che ognuno di noi sia mezzo per qualcun altro e quindi Kant ci ricorda in questo modo, facendo lo sforzo di dare una forma e una così, una forma linguistica e concettuale a questa legge dentro di noi che non fa che descrivere, Kant ci ricorda che ognuno di noi è mezzo per qualcun altro. Nel momento in cui io chiedo all'idraulico di venire a casa mia perché sento puzza di gas e devo capire se la caldaia perde, io sto utilizzando la sua esperienza, sto utilizzando le sue conoscenze e sto utilizzando quindi la professionalità di questa persona, ma questa persona è pur sempre una persona e quindi nonostante io mi avvalga a livello di, proprio di mezzo di quella persona, non devo mai dimenticare che comunque prima di tutto quella persona di cui mi servo, tra virgolette, è il mio fine e deve essere il mio fine, cioè davanti a me ho comunque un uomo o un uomo che va rispettato nella sua dignità in modo totale. Rispettare la dignità di un uomo significa rispettare la sua essenza, rispettare i suoi principi e rispettare anche i miei che mi chiedono il rispetto dei suoi, onde per cui nel momento stesso in cui questa persona diciamo si rende utile al sottoscritto, comunque prima di tutto va trattata con la dignità e il rispetto che si merita e questo forse vi sconvolgerà, ma questo rispetto nei confronti dell'uomo vale anche per l'uomo peggiore, per l'uomo più infimo, più crudele, per l'uomo che è traditore, perché comunque è un uomo e quindi va giudicato e va giudicato in base alle leggi e in base ai codici che prescrivono tutta una serie di passaggi affinché il giudizio venga conseguito in maniera il più possibile imparziale e quindi giusta, ma nello stesso momento ricordandoci che ha una dignità e quindi non superando di un millimetro quelle che sono le norme e le pene previste, non infliggendo nulla di più e soprattutto nulla che possa essere in qualsiasi modo lesivo della dignità di questa persona. Questo io penso che sia fondamentale anche quando il popolo si libera di un tiranno e poi di fatto non fa che cercarsene un altro ancora peggiore, infierisce su questo tiranno gli stessi codardi che prima lo hanno osannato e adulato per poter ottenere tutti i privilegi possibili, poi di fatto lo infangano, lo calpestano, lo infamano in tutti i modi nel momento stesso in cui conviene passare dall'altra parte e quindi schierarsi dalla parte del nuovo liberatore che presto sarà il nuovo tiranno. Questa è la vigliaccheria, la codardia, in qualche modo la feccia, il peggio che l'uomo sa dare di sé quando si usa e quando usa gli altri. Ecco quindi che tutte le volte che un uomo tradisce se stesso e la propria dignità di fatto scaraventa, come ho cercato di spiegare in un video che si intitola Il miele dell'apicultore, uno degli ultimi che ho registrato e pubblicato il giorno di Capodanno se non erro, ecco scaraventa nello stesso veleno e nella stessa incoerenza e nella stessa inautenticità tutte le persone che in qualche maniera cercano invece di rimanere pure ma vengono invischiate da questa trama di di tradimento reciproco. Dobbiamo avere il coraggio di essere puri, dobbiamo avere il coraggio di trattarci come fini, intanto rispetto a noi stessi. Questo significa appunto che se tradiamo la nostra natura e continuiamo a fare da schiavi agli altri soltanto per ottenere in cambio lo stipendio che ci serve per poter pagare bollette o mutui e tenete conto che come Marx ha ben sottolineato noi non veniamo pagati o comunque chi lavora come lavoratore dipendente non viene mai pagato per l'effettivo lavoro che fa, che svolge, ma soltanto per quel che gli serve per mantenersi un minimo a galla nel mese in corso e quindi non certo in base a quanto varrebbe la forza lavoro sviluppata. Quindi siamo di fatto mantenuti da questa forma di pagamento e di retribuzione che di fatto è poco più che una miseria, che un'elemosina, proprio per essere ricattabili in qualsiasi momento, proprio perché agganciati a uno stipendio che ci permette poco più che il pagamento delle tasse e delle rate e delle bollette, non osiamo affrancarcene, liberarci e mandare tutto al diavolo. Ma è quello che invece assolutamente dobbiamo fare perché è solo così che non ci renderemo più ingranaggi di questo sistema schifoso ed è solo così, è solo quando l'uomo ascolta veramente il suo cuore che viene magicamente aiutato e riesce ad andare avanti e come dicevo da un passo a un altro presto si mette a volare. Nello stesso momento non dobbiamo mai tradire gli altri, non dobbiamo mai rinunciare al rispetto della dignità di ognuno di noi e degli altri. Quindi trattare l'uomo, me stesso, gli altri, mai soltanto come mezzo e sempre come fine è un precetto importantissimo da seguire ogni momento. Io sono il fine delle mie azioni, gli altri sono il fine delle mie azioni e in ogni momento la dignità mia e degli altri va assolutamente rispettata, salvaguardata per il bene di tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.